Questo fine settimana è un doppio confronto fra Viareggio e Forte dei Malmi. Si comincerà sabato sera al Palabarsacchi alle 20.45 con il derby di Hockey su pista tra il centro giovane cacciatori e l'Hockey Forte che ha una importanza relativa per la classifica in quanto i bianconeri sono ormai consolidati al terzo posto mentre il Forte dei Malmi per sperare di scavalcare il Lodi al primo posto deve sperare in una debacle dei giallorossi sulla pista di Correggio. La partita è comunque attesa da parte delle rispettive tifoserie se preannunciano la coreografia degna dell'appuntamento come prova generale per la Coppa Cersa in programma il 29 e il 30 di questo mese. Allo Stadio dei Pigni è di scena invece domenica alle 15 la gara tra il Viareggio e il Real Forte Querceta. 5 euro il prezzo del biglietto ingravinato e 10 quello in tribuna. Le zebbe cercano punti per un miglior piazzamento in classifica per sperare di giocare la seconda gara in casa per i play-out. I nerazzurri invece vogliono punti per cercare ancora un posto eventuale per i play-off. Sia la Cdc che il Viareggio intendono poi riscattare le pesanti sconfitte dell'andata. 7 a 1 nel derby di hockey per i bianconeri e 6 a 0 le zebre nel calcio a Forte dei Malmi. Grazie. 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 Grazie.